Salve a tutti Blazers e bentornati nella BlazeCraft 4, ci troviamo su Marte ragazzi, siamo sul pianeta russo, distantissimi da casa nostra, tra l'altro dov'è casa nostra? Dov'è la terra? In questo momento nel cielo non c'è perché è notte fonda, o credo sia tipo, che cos'è il tramonto? Non capisco a che ora del giorno siamo, sì è notte ok, però non capisco se quel chiaro all'orizzonte non dovrebbe rappresentare nulla, vabbè comunque in teoria spunterà anche la terra nell'orizzonte di questo pianeta rosso. Vedendo o non vedendo, fatto sta che siamo parecchio lontani, tra l'altro qui abbiamo il nostro razzo, mi devo ricordare perché non l'ho più preso e ovviamente da lì dovremo reimpostare una base di ritorno quando saremo pronti e quando avremo trovato Gianfatto. A proposito di Gianfatto, siamo qui per lui, mi sono stanziato su Marte, la base è pronta, è funzionante, tutto quel fogliame che non dovrebbe desponare produce un sacco d'ossigeno e guardate un po' ora la nostra base si è allungata. Che cosa ho fatto tra un video e l'altro? Ho costruito un doppio airlock perché se tu apri l'airlock mentre dentro hai un ambiente con ossigeno, tutta l'aria che c'è ovviamente ti esce fuori, quindi perdi il, diciamo, l'airlock per l'appunto, cioè l'ossigeno dentro fuoriesce e si sparge nel pianeta. Per cui, guardate un po' che succede, abbiamo un airlock numero uno più piccolo perché non avevo più troppi blocchi e poi uno più grande e guardate, quando io sto qui questo si chiude, poi vado un po' più avanti, si apre questo e si aprono in alternanza, quindi si crea una camera stagna dove abbiamo una zona cuscinetto in cui l'ossigeno può uscire dalla base, ma nel momento in cui esce la parte vera e propria di base rimane comunque sigillata, quindi in quell'ambiente l'ossigeno c'è sempre. E questo è l'importante, abbiamo quindi no ossigeno, zona alternata cuscinetto e zona sempre sicura. Qui mi posso togliere la maschera ed essere libero di respirare come voglio, è una figata assurda. Poi ho liberato tutto lo spazio dei blocchi che avevo messo, adesso abbiamo una base super spaziosa, ho anche una cesta, ho un po' di roba, quindi va tutto benissimo, l'ossigeno lo ricarichiamo perché, come vedete, ho creato uno snodo nella pipa e oltre alla ventola dell'ossigeno che produce a pieno regime, proprio vedete è al top, abbiamo anche quest'altra macchina che ci ricarica le bombolle d'ossigeno e pensate, il collettore è là fuori, ora è abbastanza per gestire ben due macchinari. Tutto questo ambiente in contemporanea la ricarica del tank d'ossigeno, infatti qui abbiamo subito fatto. Detto ciò, ragazzi, abbiamo tutti gli strumenti adatti per esplorare il pianeta rosso. Dobbiamo cercare i dungeon e dobbiamo trovare già un fatto. Penso che potrebbe essere in uno di questi dungeon perché sono i luoghi di massimo interesse in Marte e quindi spero di trovarlo da qualche parte in questi luoghi. Ci rimettiamo quindi il nostro sistema, ci rimettiamo le bombole, dureranno davvero un sacco queste bombole, quindi possiamo esplorare tranquillamente e qualora finissero, ecco la terra, vedete, siamo veramente lontani da casa. Ciao terra, riesco a vedere il vascello quasi. E a quanto pare la terra viaggia di giorno con il sole. Guardate, sì, si alzano in contemporanea o sbaglio? Che cazzo sto prendendo a caso lo zaino? Eh, sì, sembrerebbe di sì, ok, figo. Comunque è mattina, mi sembra, l'orario adatto per partire all'esplorazione e cercare uno di questi dungeon. Speriamo di non dover cercare molto lontano come sulla luna perché non voglio altri problemi. Però nel caso ci serve ossigeno, torneremo in base e ci ricarichiamo scialli. Tra l'altro, ragazzi, vedete queste cose qui? Sì, avete presente quando vi parlavo delle meteoriti che servivano per fare le placche? Queste sono le meteoriti, cadono sui pianeti alieni, come il pianeta rosso. E in teoria, non so se la posso rompere con questo. Vediamo se mi droppa. Sì, mi ha droppato. Quindi, vedete, il raw, meteoric, ingot, anzi iron, si ottiene dal looting fatto nei pianeti alieni. Come vedete ce ne sono un po' in giro sul pianeta rosso. Quindi ci sta tutta come cosa. Ma noi, vi ripeto, dobbiamo cercare un dungeon. Penso che l'ingresso di questi dungeon siano in enormi crateri, come sulla luna. Non ne sono certo. Però dobbiamo cercare qualcosa del genere. Magari usare anche la minimappa. Perché magari potremmo visualizzare da qualche parte un'apertura. Non lo so, però tipo, vedete, qui c'è qualcosa di strano. Voglio andare a vedere. Ok, ok. Stavamo guardando questo buco. Esattamente. Ho bisogno di farmi un po' di torce al volo. Almeno giusto per, sapete, illuminare con la luce dinamica. Così ci vediamo qualcosa. E ci sono delle enormi caverne marziane qui sotto. Non so quanto io voglia introdurmi nel sottosuolo marziano. Anche se sarebbe una zona discretamente utile per creare una base. Perché hai già le pareti. Basterebbe creare un airlock da una parte. E una parete di chiusura dall'altra. E sei a posto. Però questo a noi non interessa. Ed è davvero dannatamente buio. Quindi non mi voglio perdere. E forse è il caso di tornare su. Perché non credo di trovarci già un fatto qui dentro. E ragazzi, wow. Guardate come sono epiche le montagne qui su Marte. Oddio, sarebbe stato anche figo fare tipo un'enorme base qui su Marte. Cercare di colonizzare per bene il pianeta. Certo, ci vorrebbero mille, mille episodi per fare una cosa del genere. Ed è davvero figo. Non è proprio come il Marte reale. Non vedo i vari canyon che contraddistinguono la superficie marziana. Tipo le Valles Marineris. E che non credo abbiano un nome italianizzato. Però, vabbè, chiamiamole così. O comunque, quello non è il Monte Olimpo. Cioè, il Monte Olimpo su Marte è alto 20 km. All'incirca. È una bestia. Però comunque, è figo. È davvero tutto molto figo. Ed esplorare con un sacco d'ossigeno non ti fa pesare. Come quando siamo stati sulla Luna. Il fatto che attorno a noi c'è un'aria letale. Perché non è respirabile per noi. Quindi, andiamo a vedere nella minimappa. Stiamo facendo... Qui c'è qualcosa? C'è una strana ombra. Potrebbe essere il versante della montagna. Stiamo facendo uno strano giro. E vorrei continuare a fare questo giro attorno, diciamo a... Merda, la torcia prendila. Attorno alla nostra base. Perché se mi allontano troppo, inizio a rischiare. Però voglio cercare nei dintorni. Così siamo più al sicuro. Ragazzi, ci siamo. Vi faccio vedere nella minimappa. Abbiamo trovato questo pertugio. Come vedete, al centro si nota una piccola parte verde. Si suppone sia il pavimento del dungeon che si vede dall'ingresso. Non siamo molto distanti dalla base, come vedete. Ho fatto un giro importante, ma furbo. Ho girato a spirale in modo da non allontanarmi troppo. E, in teoria, era esattamente qui, ragazzi. Siamo pronti ad entrare. Quindi, ho davvero panico per capire quello che potremmo trovare dentro. E sapete cosa facciamo? Buttiamoci una torcia. Ok. È davvero profondo. Guardate, è più profondo di quello che sembra. In questo modo abbiamo illuminato il fondo. Effettivamente ci sono dei mattoni verdi. E ci sono delle ragnatele. Scendiamo gradualmente. Non subisco danno da caduta, quanto pare, ma... Ciò nonostante... Sì, subisco danno da caduta. Eh, ci vuole molto più tempo per subirlo. Però, lo subiamo. E sono usciti degli Evolved Creeper. Ok. La cosa non mi piace un granché. Come... come facciamo? Devo, tipo, buttarmi là sotto. Magari inizia a spararli. Così, magari riusciamo ad ucciderlo a distanza. Vediamo un po'. Sì, riusciamo ad ucciderlo a distanza, mi sa. Ok, l'Evolved Creeper è morto. Quindi, ci buttiamo. E... cosa sto facendo, ragazzi? Sto facendo un macello. Vieni qui. Rimettimi la pala. Dammi la mia pala. Rivoglio la mia pala. Eccola, mettiamo qui. Scendiamo, ne è comparso un altro. Ok, è morto anche lui. Mi butto giù. E merda, ce ne sono un sacco. Ah! Ok, mi esploso. Esploso, esploso, esploso. Merda. Ce n'è un altro qui. Uccidilo. Oddio, sono nelle ragnatele? Ok, li posso shottare, però. Li shotto. Merda, merda. Sono altamente spaventato. Prendi questo, prendi questo, distruggi. Sentite. Sgocciola. Sta... C'è dell'acqua che sgocciola qui. Ok. Ehm... Sì, ovviamente non c'è ossigeno, quindi la torcia è altamente inutile. Dobbiamo tenerla in mano. Lo so a chi servirebbero le torce di illuminite in questo caso, ma... Ragazzi, non ho l'alluminite, quindi... Che poi, la glowstone. Quindi ci facciamo bastare queste. Le prenderemo dalle pareti. E le trupperò. Quindi utilizzando la luce dinamica della Optifine, in questo modo riusciamo comunque a fare un percorso luminoso. E ci servirà per tornare. Perché non vorrei che sia un percorso labirintico. Quindi stiamo molto attenti. Guarda qui. Già stanno arrivando. Ok, per fortuna loro li sciottiamo. Però pronto. Subito. Con il piccone in mano. Ok. Andiamo. Andiamo ora. Spacco. E ce l'ho fatta. Perfetto, c'è un altro qui. Occhio, 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 occhio. Spaccato. Guardate, a quanto pare... Qui posso... Posso rompere questi mattoni. Quindi, in teoria... Ricordiamocelo, si può anche pensare di scavare e di prepararci un tunnel in questo modo, se vogliamo spaccare gli spawner in modo un po' più agile. Continuiamo, ragazzi. È pieno zeppo di spawner, a quanto pare. E di ragni alieni. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Agli occhi verdi. Agli occhi davvero verdi. Cazzo, un creeper. Merda. Se qui non illuminiamo è un casino, eh. Perché non si vedono al buio. Non si vedono. Si confondono con l'ambiente. Quindi vai, distruggi uno e distruggi due. E anche questa è fatta. Facciamo droppare altre torce, ragazzi. Ci serve di droppare un sacco di torce qui. Quindi falla cadere. Così illuminerà. E... Andiamo avanti. Merda i creeper sono qui. Sono già qui. Ok. Uccisi, uccisi, uccisi. Spacca. È abbastanza lineare questo dungeon. Ricorda, per certi versi, il dungeon della luna. C'era un bivio, ma, come vedete, non porta da nessuna parte l'altra, l'altra area. Quindi, va bene. Uccidiamo questi creeper, che in realtà non sono alieni. Sono con delle tutine per respirare, a quanto pare. Sono come noi. Sono venuti in qualche modo fino a qui. E che cazzo c'è qua sotto? What? Ok, ricordiamoci di sto buco, perché potremmo doverci andare, poi. Ok, continuiamo l'esplorazione. Salve. Per fortuna li shottiamo. Ci sono... Oh, madonna! Pure gli zombie? Ok, gli zombie preferivo non vederli, onestamente. Però, perché non riesco ad ucciderlo? Che succede? Evolved zombie? È più potente del normale? Parrebbe di sì, raga. Ok, questo è davvero un dito al culo. Dobbiamo subito andare e spaccare il suo spawner ovunque esso sia. Dov'è? Merda. Merda, perché sto sbagliando tutto. Uccidi questo, che aveva anche uno strano cappellino. E fai così. E questo ce lo siamo tolto. Ok. Chi è che mi sta attaccando? Un altro zombie. Vai. Easy. Lui dovrebbe essere easy. L'abbiamo ucciso subito. Perfetto. Molla una torcia. Facciamo droppare una torcia. E prendi il piccone, perché c'è questo... Distrutto. Sono degli scheletri che mi stanno impedendo il passaggio. Guardate, mi sparano con ogni sorta di proiettile. Sono davvero fastidiosi. Merda. Merda. Devo riuscire a... Liberati da qui. Liberati immediatamente, cazzo. Liberati. Scappa. 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 Scappa oltre. Dobbiamo... Merda, ragazzi. Mi stanno shottando in quattro. Ok, ragazzi. Sono passato. Sono passato. Mi chiudo. Mi chiudo. Per ora ci chiudiamo. Per ora ci chiudiamo. Sarà un casino poi a tornare. Però per ora ci siamo chiusi. E qui? Ragazzi. Ma è un postaccio. È un fottuto postaccio. Che cosa c'è qui dentro? È Energy Crystal. Un materiale della Arcane RPG. Io me lo prendo. È Ender Staff. Che cos'è questa Ender Staff? Aspetta. Lancia Ender Pearl? Vuoi dire che mi permette tipo di tipparmi? No. E come funziona allora? Tippa i mob, forse. Dobbiamo provarla, ragazzi. Potrebbe essere un'arma vincente. Ok, andiamo avanti intanto. C'è qualcosa che non mi piace qui. Una boss fight. A ossigeno siamo messi bene. Luce c'è. Ragazzi. Mi sa che dobbiamo prepararci al peggio. Oh, ok. Sono pronto. Andiamo. Un Creeper a tre teste! What? È un Creeper a tre teste! È un Wither Creeper! Che cazzo è? Evolver Creeper Boss! Perché ha tre teste? Perché? Devo rimbalzargli le TNT? Ok, lo facciamo. Mi spara delle TNT! Mi spara le TNT! Ma come ti permetti? Sono io il Creeper! Sono io il re dei Creeper! Che cazzo sei tu? Dobbiamo attaccarlo un sacco, raga. Attacchiamolo un sacco. È molto più potente dell'altro boss. È molto più potente! Ok, 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 ok. Con calma. Trappole. Gli metto qualche trappola qui. Mettiamoli qualche trappola. Dovrei averla messa. Spariamoli così. Ok. Non sto facendo... Non li sto facendo danno. Non li faccio danno. Devo... Come faccio? Devo per forza colpirlo con le TNT? Sì! Guardate, sembrerebbe tipo... Invincibile. Ok, colpiamolo con le TNT. Giochiamo a tennis. Vai. Ok, raga. Ho trovato una posizione comoda. Ha perso una testa. Ha perso una delle teste. E ha 110 di vita. De Minion. Merda. Merda. Questo è un problema. Evoca Minion. Evoca Minion. Che esplodono. Ovviamente. Ovviamente esplodono. Oh, merda. Raga! Sei resettato! Non ci credo. Praticamente se tu esci... Si resetta. Sono uscito un attimino per sbaglio. E sei resettato. Vabbè, raga. Da capo. Da capo. Da capo. Ok, raga. Siamo a metà vita. Ho trovato una posizione di favore. 80. 80. Sta iniziando a evocare Minion, vero? Sì. Questi sono molto fastidiosi. Dobbiamo continuare a... Colpirlo con le sue TNT. Nel mentre lui evoca Minion. Che, come vedete, esplodono a contatto della TNT stessa. Quindi gioca a nostro favore quando spara. Merda! Che succede ora? Sta per esplodere lui. Sta per esplodere lui, me lo sento. È un grosso problema. Ha tipo uno scudo. Ha tipo uno scudo. Cosa devo fare? Ho paura. Non posso uscire. Non posso uscire. Oh, si resetta. Ok. 20. 20. Continuiamo a colpirlo. 14. Vai! 14. 8. 8 punti. Mi ha colpito. Aia! 2! Preso! Preso! Merda! Non ha più la testa. Ha perso la testa. Mi devo... Mi curo, mi curo, mi curo. Mi devo coprire forse? Merda, 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 stai esplodendo. Ok. Ok. Dovrebbe essere finita. Dovrebbe. Ok raga, abbiamo trovato la chiave. Eccola qui. La chiave dovrebbe aprire la cesta del dungeon. che non ho idea di dove si trovi. E guardate, ci sono creeper egg, uova di creeper, che noi possiamo, penso, andare a raccogliere in qualche modo, ma non riesco a spaccarle. Quindi per il momento mogliamoli qui. E ha spaccato tutto il pavimento. Il problema è, dove sta la stanza con i loot? Che cosa apre la chiave? Non c'è nessuna porta. Raga, sono altamente confuso. Forse era tipo qua dietro, ma si è buggato. Qualcosa c'è, un corridoio c'è però. Attenzione. Quindi, come... Aspetta. È qua. Ho trovato... A caso l'ho trovato? Davvero? Che culo. Ok. Tier to chest. Apri là. Che cosa troviamo? NASA Workbench Schematic Tier 3 Rocket. Tanta roba. Abbiamo del ferro. Potrebbe farci comodo, quindi lo prendiamo. Lascia giù la carne marcia per ora. E prendi questo assolutamente al posto di... Al posto di... Nulla. Abbiamo semplicemente lo zaino. Lo mettiamo nello zaino. Ragazzi, bene, ce l'abbiamo fatta. Io speravo di trovare nei dungeon marziani già fatto. Ma a quanto pare... Non è così. Ehm... Devo tornare alla base e capire come muovermi. Eren! Ma sei tu? Meo! Gian Fatto? Ma... Non c'è. Me lo sono sognato. Ho sentito la sua voce. Me lo sono sognato. Ok. Vabbè. Andiamo alla base. Eren, fermati! Meo! No, me lo sono sognato! C'è la voce di Gian Fatto! Ma com'è possibile? Gian Fatto, dove sei? E la camera è vuota. Com'è possibile? Sono qua sotto, Eren! Meo! Qua sotto? Eren! Sono qui! Meo! Non ci credo, Gian Fatto! Ti abbiamo trovato! Arrivo subito da te!